Perfetto, eccoci qua all'ultima lezione di quest'anno, credo, in cui finiremo di risolvere l'esercizio iniziato ieri, ovvero la risoluzione della simulazione d'esame che abbiamo fatto mercoledì scorso. Prima di iniziare ribadisco quello che ho detto alla fine ieri, giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare che la simulazione era più facile del previsto perché essendo tutti i vertici collegati tra di loro in modo forte, nel senso che tutti sono collegati con tutti, vale la disuguaglianza triangolare e quindi è sempre più conveniente sfruttare l'arco diretto per andare da un distretto a un altro. E quindi in sostanza, posto che funzionerebbe lo stesso, non è necessario ogni volta calcolare il cammino minimo per scegliere la gente, ma basta andare a vedere tutti i distretti adiacenti e scegliere quello più vicino in base al peso dell'arco. Quindi questa parte qui la togliamo e la risolviamo in modo più semplice. Perfetto. Allora partiamo direi dalla classe evento. Ieri abbiamo detto che ci sono in sostanza tre tipi di evento. L'evento criminoso stesso che è quello che andiamo a simulare. L'evento di agente arriva sul posto e l'evento di crimine terminato e quindi l'agente si libera. Come vedete noi dobbiamo sempre portarci dietro insomma almeno qualche informazione sull'evento criminoso in tutti e tre appunto gli eventi. Quindi io direi che qui nell'evento iniziamo col definire i tre tipi possibili con il classico enum. Abbiamo detto che il primo tipo di evento è l'evento crimine, il secondo è arriva agente sul posto e il terzo è crimine gestito diciamo chiamiamolo gestito. Dopodiché questa classe avrà sicuramente un campo tipo evento per discriminare i vari tipi di evento. Poi abbiamo sempre il campo su cui si farà l'ordinamento, in questo caso direi che possiamo utilizzare un local date time, data, che nel caso di un evento criminoso sarà il campo reported date dell'evento, nel caso di arriva agente sarà quella data più x secondi ad esempio. E poi visto che ci serve comunque mantenere traccia di alcune informazioni del crimine, al posto di definirmi tanti campi e poi andare a riempirli io suppongo di avere un riferimento sempre al crimine considerato. E quindi mi definisco un campo di tipo event, vi ricordo che event era il bin, il java bin che modellava le righe della tabella e me lo salvo nel mio evento. Mi faccio generare i vari get resetter, source, generate get resetter, il costruttore, perfetto. E poi da non dimenticare mai questi eventi devono essere ordinabili, quindi implements comparable di evento perché li dobbiamo inserire in una priority queue. Quindi nel compare to, utilizzando delle local date time, posso usare il compare to già implementato da java, più che da java dalla classe local date time. Quindi dis.data.comperto o.getdata. Va bene? Un punticino l'abbiamo già guadagnato. Andiamo avanti. Qui ci siamo ancora dimenticati qualcosa ieri perché avremo ancora bisogno di altre informazioni dal modello. Sicuramente un riferimento al grafo per recuperare ad esempio le distanze tra i distretti. Quindi graph, integer, default, weighted, edge, grafo. Eccolo qua, importiamo le varie classi. Allora prima graph. E poi default, weighted, edge. E poi naturalmente mancava la coda. Giusto? Private, priority, queue. Di che cosa? Di evento. Coda. Perfetto. Importiamo. Ottimo. Dopodiché abbiamo i soliti due metodi. Il primo è l'init. Serviranno dei parametri, poi andiamo a riempirli. E il secondo è run. Dunque nell'init che cosa andiamo a ricevere? Sicuramente i vari parametri, quindi n, l'anno, il mese e il giorno. Questi li riceveremo da fuori. E poi anche direi il grafo. Quindi me lo copio di qua. E lo inserisco qua come parametro. Ottimo. E qui andiamo a settare tutti i nostri attributi del simulatore. Quindi dis.n uguale n, dis.anno uguale anno, dis.mese uguale mese, dis.giorno uguale giorno, e dis.grafo uguale grafo. Va bene, poi nell'init abbiamo sempre le inizializzazioni di tutte le strutture dati che utilizziamo. Quindi sicuramente impostiamo mal gestiti inizialmente a zero. Poi dobbiamo creare la nostra mappa di agenti. Vi ricordo che abbiamo scelto di avere una mappa in cui le chiavi sono i distretti e i valori sono il numero di agenti liberi attualmente in quel distretto. Quindi dis.agenti, creo prima la mappa, you hash map, di integer, integer, eccoci qua. E poi la inizializzo con i valori iniziali. Quindi la mia idea è di mettere i valori tutti a zero per ogni distretto e poi nel distretto a minor criminalità, dove verrà piazzata la centrale, mettere n agenti. Quindi ora scorro i distretti, li posso recuperare dal grafo. Quindi sono degli interi, di, in dis.grafo.vertexset, ops, niente non ce la faccio, ecco, dis.agenti.put, al distretto di metto zero agenti. Adesso devo scegliere dove sta la centrale. Abbiamo visto che il testo richiede di mettere da uno a dieci agenti nella centrale che si trova nel distretto a minor criminalità dell'anno in corso. E quindi qui vi dicevo già l'altra volta che ci serve purtroppo un acquir in più. Perché dobbiamo capire qual è il distretto a minor criminalità. Chiamiamo questo distretto min di, devo farmelo dire dal DAO per forza. Ok, quindi prima mi creo un DAO. Lo importo. E poi dal DAO mi faccio dire, dimmi qual è il distretto a minor criminalità. Quindi supponiamo get distretto min, distretto min dell'anno considerato. Ok. Allora si può fare in vari modi ottenere il distretto a minor criminalità. Vediamo su MySQL come, con una query come fare. Ce la possiamo fare in un unico colpo. Perché? Io mi posso stampare i vari ID dei distretti. E che cos'è il crimine, il, scusate, il distretto a minor criminalità, quello per cui ci sono stati meno eventi criminosi nell'anno. Quindi proviamo a stampare il numero di eventi, count asterisco, from events, dove l'anno è quello considerato, reported date, supponiamo il 2015. E ovviamente ci serve una group by district ID. Ok. Questa query stampa, dovrebbe stampare, ovviamente no. Ah, dobbiamo selezionare il DB, che è Denver Crimes. Questa query stampa il distretto con il numero di eventi criminosi in quell'anno. Noi ne vogliamo prendere solo uno. È vero che potremmo prendere tutta questa roba qua, portarla in Java e poi da codice selezionare il minore. Ma per far più veloce posso innanzitutto ordinarli per il count, in modo magari ascendente. Eccoci qua. E poi prendere solo il primo. Come faccio a prendere solo il primo? Limit 1. Prendi solo il primo elemento. E vedete che mi restituisce solo lui, il 7. Posso addirittura togliere il count asterisco di qua, perché a me interessa solo l'id. Eccoci qua, 7. Va bene? Quindi è abbastanza veloce se sappiamo come fare. Se iniziamo a portare tutto in Java, bisogna scrivere un ciclo for, eccetera, e lì i minuti vanno. Va bene. Copio questa query e la porto nel DAO e mi faccio generare questo metodo. Eccolo qua. In cui la query è quella lì che abbiamo appena fatto. Tolgo gli slashenne. Al posto del 2015 metto il punto interrogativo. Punto e virgola. Il try catch. Copio. Perfetto. Copio di qua. Mi faccio dare la connessione. Creo il prepare statement. Setto l'anno. Ed eseguo la query. Quindi con questa operazione qui. Questa query ritorna un singolo valore. Quindi va bene una if. If res.next ci sarà sicuramente. Ritorno direttamente res.getint district id. Mi ricordo di chiudere le connessioni. Sia qui che nel malaugurato caso in cui non ci siano risultati. Cosa direi impossibile ma e qui ritorniamo magari null. Anche se ripeto qui concettualmente non ci arriverà mai. A meno che il db sia mal fatto e non ci siano dati nel db. Questo qui è inutile. Perfetto. Va bene. Con questa query qui dal simulatore ricaviamo il distretto criminalità minore e quindi impostiamo la nostra mappa creiamo diciamo la centrale. Quindi al distretto min d ci piazziamo n agenti liberi. qual è il problema ok era sbagliato il nome perfetto poi abbiamo la creazione della coda new priority queue di evento e dobbiamo anche impostare gli eventi iniziali giusto? Nell'init allora qui quali sono gli eventi iniziali che possiamo già inserire tutti i crimini di quell'anno purtroppo anche qui se andiamo a prendere il DAO abbiamo sì un metodo che ci dà tutti gli eventi ma non tutti gli eventi dell'anno quindi possiamo semplicemente modificare un pochino questo metodo che c'era già per specificare anche l'anno non ci mettiamo molto perché basta aggiungere una clausola di where non mi andrei a creare un altro metodo nuovo modifico direttamente questo tanto non l'ho mai usato e ci imposto qui st.setint 1 l'anno finito vedete che questo mi restituisce già una lista di eventi di event perché evento è la mia classe per la simulazione magari cambiamo anche il nome by year così specifichiamo bene cosa fa quindi in sostanza possiamo usare questo metodo per creare gli eventi iniziali quindi scorro gli eventi della tabella dao.list all events by year l'anno è salvato nella variabile anno e che cosa faccio creo un nuovo evento dove il tipo è tipo punto no non si chiama tipo ma tipo evento tipo evento tipo evento punto crimine ci passo ci passo l'intero crimine e e qual è la data su cui ci sarà l'ordinamento e punto get reported date forse ho invertito i due campi ovviamente ovviamente sì quindi la e sta dopo la data giusto? e qui poi nel run avremmo il solito ciclo while che non mi ricordo mai ok while è uguale q punto poll finché è diverso da null faccio qualcosa un altro punticino guadagnato qui c'è un errore grafo non c'è perché ah c'era un errore qui perfetto no il ah sì sì forse sì mi sono confuso vediamo un po' sì durante la giornata è vero quindi dobbiamo ancora specializzare di più l'evento del DAO passandogli diciamo che questo diventa by date passandogli anche il mese e il giorno io ho scelto per semplicità di modellare tutto come degli interi mi sembrava la soluzione più veloce quindi end month reported date uguale punto interrogativo andiamo a capo and day di reported date uguale punto interrogativo e qui ho altre due set int due mese tre giorno grazie quindi di qua diventerà by date dis punto mese dis punto giorno allora nel ciclo c'è il solito switch case e punto get tipo e poi abbiamo i tre casi quindi case crimine break magari indentiamo bene il codice poi abbiamo case arriva agente break e case gestito break giusto allora direi a me viene sempre bene partire dai più semplici qual è il più semplice qui io direi il gestito cosa facciamo quando un crimine è gestito semplicemente liberiamo la gente la gente torna libero allora per come abbiamo impostato noi la simulazione ripeto che ci potrebbero essere n soluzioni diverse abbiamo questa mappa di distretto agenti liberi e beh allora noi qui sappiamo qual era il crimine perché ce lo portiamo sempre dietro nella classe evento semplicemente dis punto agenti punto put a che chiave? beh il distretto dove c'era il crimine l'agente sarà libero e rimarrà lì il testo chiede proprio questo quindi e punto get crimine punto get district id il valore incremento di 1 gli agenti liberi quindi devo fare dis punto agenti punto get di quel distretto lì un po' macchinoso ma più 1 lo vado a capo è chiaro? vado a incrementare di 1 il valore che che c'era se il primo agente che arriva in un distretto quel valore era 0 adesso c'è un agente libero nel distretto del crimine mettiamo magari una stampa dicendo crimine x magari ci stampiamo l'id del crimine più e punto get crimine punto get incident id più gestito non sappiamo se è stato ben gestito o mal gestito ma il crimine comunque è finito è terminato poi diciamo che il primo caso è quello più difficile lo lascerei al fondo perché è dove la centrale sceglie l'agente allora proviamo a fare il caso arriva agente allora ieri abbiamo detto che all'evento arriva agente bisogna innanzitutto capire quanto durerà la gestione del crimine perché dipende e poi controllare se l'evento è mal gestito oppure no che è poi la variabile di output che ci interessa allora partiamo dalla definizione della durata vediamo il testo cosa dice il tempo necessario a gestire un evento è con uguale probabilità di una o due ore per questi eventi qui per tutti gli altri è di due ore un po' ma è abbastanza semplice quindi mi definisco una variabile diciamo durata e supponiamo di avere una funzione qua dentro e per non scrivere troppo codice nello switch case che mi dia la durata rispetto al tipo di evento che il testo diceva si può prendere da questa offense category id andiamo a definirci questo metodo privato qua dentro quindi abbiamo detto che se questo offense category id è uguale a all other crimes qui dobbiamo scegliere con uguale probabilità o una o due ore come si fa? anche questo capita spesso all'esame ma fatto una volta fatto per sempre quando dobbiamo tirare a caso una probabilità l'idea è di avere un intervallo da 0 a 1 avere un diciamo un limite in questo caso del 50% e poi tiro a caso un numero e vedo in che intervallo cade se cade qui quindi è maggiore di 0.5 è un caso e se cade qui vuol dire che è maggiore di 0.5 è l'altro caso nel caso in cui vogliamo una probabilità uguale poi questo limite qui lo possiamo spostare avanti e indietro a seconda delle esigenze è chiaro questo? no facciamo un caso mi scollego un attimo da qua se no facciamo un caso un po' più scusciativo supponiamo supponiamo vogliamo con l'80% di probabilità un caso col 20 l'altro ok questo è il mio intervallo da 0 a 1 e questo è 0.8 io tiro a caso un numero tra il 0 e il 1 e ovviamente nel tirarlo a caso ho l'80% di probabilità che questo numero sia tra 0.08 mentre non solo il 20 che sia tra 0.8 e 1 quindi se questo numero viene minore a 0.8 siamo qua siamo nel caso dell'80% di probabilità se invece viene qua siamo nel 20 è chiaro? ok e quindi mi creo un random e poi dico if r punto next double che ritorna un metodo tra 0 un metodo scusate un numero tra 0 e 1 casuale maggiore di 0.5 diciamo che la durata per esempio è due ore altrimenti ritorno 1 togliamo un po' di parentesi che non servono dopodiché preferisco lavorare in secondi perché mi è poi più facile sommarli alle date va bene e allora io trasformo queste due ore in secondi semplicemente dicendo 2 per 60 per 60 e qua 1 per 60 per 60 qui si lamenta perché è un long e qui gli stiamo dando un intero e quindi dobbiamo fare long punto value of questa roba qua altrimenti in tutti gli altri casi ritorno non mi ricordo se è una o due ore andiamo a vedere due ore in tutti gli altri casi e quindi ritorno 2 per 60 per 60 domande domande perfetto ho la durata e quindi avendo la durata posso schedulare l'evento gestito no qui l'agente è già arrivato ho calcolato la durata di quanto ci metterà a gestire il crimine posso schedulare questo evento qua quando l'agente tornerà di nuovo libero this punto q punto add new evento tipo evento punto gestito l'evento no prima c'è la data poi l'evento quindi qual è la data sarà la data di arrivo quindi la data in questo momento del di questo case qua più la durata e fortunatamente la classe local day time ci offre dei metodi plus ore plus minuti plus secondi io qui ho usato secondi perché non volevo gestire il caso in cui ci fossero no qui funziona bene ma negli altri casi è meglio avere i secondi perché almeno ho un intero e non devo gestire il caso che ho 2,5 ore 2,6 ore eccetera e quindi ho detto trasformo tutto in secondi così è un intero supponiamo di avere la precisione del secondo e va benissimo virgola e mi porto dietro sempre il crimine e quindi è punto get crimine vediamo dove sta l'errore new event ah ma c'è un errore di parentesi questa parentesi va qua ottimo quindi ho scredulato l'evento di fine e devo solo più controllare se il crimine è mal gestito ok l'agente è arrivato ma è arrivato prima dei 15 minuti di tempo o dopo vi ricordo che un crimine è mal gestito se l'agente arriva sul posto 15 minuti dopo la sua segnalazione e qui possiamo usare di nuovo le funzioni che ci offre local day time i metodi che ci offre local day time quindi una possibilità è se la data di arrivo dell'agente punto is after la data del crimine più 15 minuti se questo è vero vuol dire che è mal gestito è chiaro? quindi se la data di arrivo è dopo la data del crimine qui possiamo aggiungere direttamente i minuti 15 se questo è vero dis punto mal gestiti più più magari aggiungiamo qualche stampa qui stampiamo che agente arriva per crimine e stampiamo l'id del crimine e qui magari stampiamo che il crimine è mal gestito vi consiglio sempre di mettere delle stampe intermedie per vedere che abbia un certo senso la simulazione e non stampare solo mal gestiti che era l'output richiesto quindi crimine più id e non address ma id più mal gestito gestito perfetto due eventi gestiti ci manca l'ultimo l'ultimo evento abbiamo già guadagnato un sacco di punti per arrivare al massimo cerchiamo di scrivere qualcosa qua qua cosa dobbiamo fare selezionare la gente più vicino e settarlo a occupato attenzione però ci sono due casi limite uno è che la gente libero non ci sia perché siano tutti occupati ad esempio qui abbiamo detto che per semplicità il testo non lo specificava quindi possiamo dire se non c'è nessun agente libero il crimine è mal gestito e nessuno ci va punto questo va benissimo ma c'è un altro caso limite che è quello che ci sia un agente libero nello stesso distretto del crimine e allora in questo caso ovviamente per come è scritto il testo ci mette zero ad arrivare sul posto e quindi diciamo che in quel caso è inutile schedulare questo evento perché non c'è il periodo che va da la centrale l'ha selezionato la centrale l'ha mandato e lui arriva sul posto ci arriva subito sul posto quindi questi sono i due casi limite che dobbiamo anche controllare possiamo far così dire definire una variabile partenza sarebbe il distretto di partenza dell'agente e lo impostiamo inizialmente uguale a null va bene poi dico che partenza è uguale a una certa funzione cerca agente cerca agente per il crimine per il distretto in cui c'è il crimine la facciamo dopo questa funzione e poi mi dico se partenza diverso da null questo vuol dire che c'è un agente libero giusto? altrimenti non c'è nessun agente libero e quindi qui posso direttamente fare il caso più facile dis.malgestiti più più e finisce lì perché abbiamo detto per semplicità non ci va proprio nessuno e quindi non devo schedulare nessun altro evento magari aggiungiamo la stessa stampa che c'era qui per il malgestito l'aggiungiamo anche qui è buono però vedete ho diviso il problema partendo con un approccio top down e secondo me è molto più facile ragionare in questo modo suppongo di avere una funzioncina che mi dia la gente e sulla base di quello controllo i casi limite qui dentro controllo l'altro caso limite cioè se partenza è uguale punto equals se no mi bocciano a allo stesso distretto del crimine questo vuol dire che è appunto tempo di arrivo uguale a zero altrimenti invece il tempo di arrivo è maggiore di zero e quindi dovrò schedulare quindi se siamo qui se il tempo di arrivo è zero vuol dire che è come se fossimo qui cioè la gente è già arrivato e quindi posso copiare questo codice senza il malgestito senza il controllo del malgestito perché se il tempo è zero ci arriva subito e quindi non devo controllare se ci è arrivato entro 15 minuti ci è arrivato subito e quindi posso schedulare l'evento di termine per liberarlo è chiaro questo? è come se saltassi questo come se fossi già dentro questo senza la necessità di controllare se è malgestito perché è ben gestito per costruzione viceversa se invece il distretto è lontano dobbiamo calcolare quanto ci metterà la gente ad arrivarci quindi in sostanza cosa dobbiamo fare? dobbiamo recuperare la distanza che c'è tra i due distretti abbiamo visto che sono tutti collegati quindi c'è un solo step da fare la distanza che c'è e calcolare quanto ci mette considerando il fatto che ogni gente si muove a 60 km orari quindi chi me la dà la distanza ovviamente il grafo dis punto grafo punto e la distanza sarebbe il peso quindi get edge weight dell'arco tra partenza e il distretto del crimine quindi dis punto get edge no scusate grafo punto get edge dalla partenza al distretto del crimine purtroppo la libreria ce lo fa fare in questo modo un po' contorto però è così questa è la distanza calcoliamoci quanto ci mette ad arrivare ed è qui che è il motivo per cui preferisco usare i secondi perché se faccio se faccio distanza fratto tempo scusate distanza fratto velocità in chilometri orari potrei ottenere che ne so 2,5 ore e poi non c'è un metodo della classe local day time che ti permette in modo facile di aggiungere 2,5 ore e quindi preferisco trasformare tutto in secondi un numero intero e fare più secondi quei secondi lì quindi long seconds ovviamente dobbiamo fare un po' di trasformazioni la distance era in chilometri e quindi la trasporto in metri e poi per avere i secondi devo trasformare i chilometri orari in metri al secondo giusto e quindi posso fare 60 fratto 3.6 dopodiché facciamo un cast a long si può anche fare in altri modi questo è il modo forse più veloce perché io poi posso dire aggiungo un evento di tipo arriva gente in cui la data è la data di adesso che in sostanza sì la data di adesso che corrisponde alla data del crimine punto plus seconds perché vedete che se io dico più ore lui vuole un un long quindi non accetterebbe più 2.5 per questo faccio più secondi seconds virgola mi porto dietro il crimine qual è il problema ah certo devo fare una new evento allora aggiungiamo un po' di stampe qui mi da un errore perché non si sa vediamo dopo perché magari c'è qualche errore di parentesi nel frattempo iniziamo ad aggiungere qualche stampa ad esempio qui stampiamo nuovo crimine e magari con l'id ottimo ci manca solo più una cosa il cerca agente però direi che se siamo arrivati a questo punto abbiamo già quasi il massimo cerca agente dato il distretto del crimine cerca se c'è un agente libero più vicino e per come l'abbiamo costruito restituisce null se non ne trova nessuno allora come facciamo beh per cercare un minimo l'algoritmo più semplice è quello classico in cui impostiamo una variabile distanza con un valore esageratamente alto scorriamo i valori e tutte le volte che ne troviamo uno più piccolo sovrascriviamo l'attuale minimo quindi io mi definisco un double distanza uguale a per esempio double punto max value un numero che è veramente troppo è sicuramente più grosso di tutte le distanze presenti nel grafo e poi mi definisco anche il distretto che suppongo all'inizio sia null alla fine ritornerò questo distretto se qui in mezzo nella mia ricerca troverò un distretto valido allora sovrascriverò il null con il distretto che voglio ritornare e allora ho la mia mappa di agenti for e quindi scorro i vari distretti della mappa agenti punto niente non ce la posso fare keyset ok ora vedo se nel distretto d ci sono degli agenti liberi questi potrebbero essere dei candidati quindi if dis punto agenti punto get d maggiore di zero ci sono degli agenti liberi in d ok ma d è quello più vicino e allora posso controllare if la distanza che c'è tra il district id della partenza e questo distretto qui no scusate il district id non è la partenza ma è il distretto del crimine quindi se la distanza tra il crimine e questo distretto d è minore di distanza sovrascrivo con il minimo valore corrente quindi qui dis punto get edge grafo punto get edge weight come prima di quale arco quello che c'è tra il crimine district id e di quindi se questa roba qui è scusate minore di distanza vuol dire che ho trovato un nuovo minimo e allora sovrascrivo i miei valori distanza uguale a questa distanza e distretto uguale a basta a di sicuramente sicuramente al primo giro ci entrerà lì dentro e quindi sostituire se ci sono dei distretti con agenti liberi altrimenti se non ci entra ritorna null manca manca ancora il caso limite che è quello se c'è un agente libero nello stesso distretto del crimine a quel punto non ha senso farsi dare la distanza anche perché probabilmente riceveremo un'eccezione la distanza tra lo stesso vertice in sostanza e quindi se di punto equals district no facciamolo dentro la if qua quindi if district district id punto niente lo copio equals d e quindi vuol dire che la distanza è zero quindi double punto value of zero e che il distretto più vicino è di altrimenti guardiamo la distanza faccio questo perché ho paura che richiamare queste funzioni con lo stesso distretto mi dia un'eccezione allora prima vedo che non sia lo stesso se lo stesso vuol dire che la distanza è zero e quella rimarrà altrimenti controllo c'è ancora un errore quello di prima che non riesco a capire ah vabbè c'era uno spazio perfetto domande ora proviamo a farlo girare ma scusate proviamo a farlo girare però già se riusciamo a scrivere tutto questo abbiamo sicuramente il massimo dei punti direi domande allora definiamoci nel modello un metodo simula a cui ci passiamo sicuramente i parametri quindi l'anno il mese il giorno e anche n perché poi il riferimento al grafo ce l'abbiamo già internamente nel modello useremo quello all'interno di simula ci creiamo un simulatore e poi diciamo sim punto init no init perché non me lo dà vediamo un po' ah perché l'avevo definito privato errore mio deve essere pubblico il metodo init altrimenti non lo vedo dal modello sim punto init vediamo solo forse forse se faccio così me li dice prima n anno mese giorno e il grafo me li ha già messi lui e poi sim punto run qui ah questo nel test dao ma possiamo commentare il test dao perché abbiamo cambiato il metodo del dao e quindi ora va bene abbiamo il modello e direi facciamolo dal test model qui abbiamo creato il grafo per il 2015 potremmo dire m punto simula sempre del 2015 ovviamente 5 27 quanti agenti boh 10 proviamo a lanciare vediamo che vediamo se esplode qualcosa oppure no ci mette un po' a creare il grafo grafo creato ok qualcosa c'è non abbiamo stampato ancora il numero di crimini mal gestiti ma sembra sembra dare qualcosa di vediamo se è ragionevole non riesco a zoomare ok nuovo crimine nuovo crimine agente arriva per crimine questo è il primo e il crimine mal gestito eccetera sì purtroppo per le simulazioni non c'è un modo per sapere sì no è giusto è sbagliato bisogna vedere se ragionevolmente dà dei risultati furbi poi bisogna analizzare bene il codice stampiamo ancora magari il numero di eventi mal gestiti alla fine di tutto che poi era l'output che richiedeva il programma println terminato mal gestiti uguale u dis punto mal gestiti proviamo a rilanciare il tutto quattro mal gestiti possibile possibile no ce n'è più no sì questi sono gestiti correttamente mentre ad esempio da qualche parte ci saranno i crimini mal gestiti però sembra sembra funzionare ci sono dei crimini gestiti correttamente altri mal gestiti allora vi risparmierei il collegamento al controllore perché è noioso per tutti magari lo faccio prima di caricare online la soluzione tanto ripeto anche se non lo collegate al controllore per il secondo punto va bene anche così diciamo quindi se avete domande altrimenti possiamo anche chiudere qui e domani ripeto c'è la seconda simulazione d'esame chiamiamola così purtroppo è sempre alle 11 e mezza ma diciamo che la carico subito dopo appena la la metto metto il link domani quindi se volete anche provarla da casa si può fare se avete già provato il pc e tutto ok va bene grazie per l'attenzione